Quando parliamo di tostatura quindi parliamo di colore di tostatura, eh sì perché quando noi cuociamo il chicco di caffè lo andiamo a portare a temperature tali che lo fanno imbrunire, che lo fanno in qualche modo, passami il termine, bruciare. Ecco quindi che le sfumature di colore che noi possiamo creare quando andiamo a tostare il caffè sono fondamentali perché in realtà ci danno la risposta anche su il gusto e sulla parte aromatica. Il caffè più scuro e tostato e più perde dal punto di vista sensoriale dolcezza e acidità a favore dell'amaro. Più è chiara la tostatura e più perderà chiaramente amaro o meglio non lo svilupperà a favore di acidità e dolcezza. Adesso ti faccio vedere però come si può misurare a livello tecnico il colore di tostatura utilizzando gli strumenti idonei, strumenti moderni chiamati colorimetri. Segui e ti faccio vedere. Qui abbiamo di fronte tre tipologie di tostatura diverse dalla scura alla media alla chiara. Visivamente è facile vederle. Ma quanto è scura? Quanto è media? Quanto è chiara? Qui fa la differenza ed ecco che ci viene incontro il colorimetro. In questo caso è molto semplice. Si prende un pressino, si mette il caffè all'interno di un filtro e si va a pressare gentilmente il caffè. Una volta pressato si adagia, come vedete si adagia sopra il nostro strumento che ci dà una rilevazione numerica. In questo caso è 64 e vuol dire dark. Rifacendo lo stesso nella tostatura media ci dovremmo aspettare un numero più elevato. Questo perché è un rifrangitore di luce e ci troviamo infatti davanti a 102. Nel successivo, che è poi la tostatura più chiara di tutte e tre, dobbiamo trovarci un colore ancora più alto in termini di numeri. Quindi possiamo aspettarci 120 probabilmente o qualcosa di simile. 121. Questo significa cosa? Che avendo uno strumento come questo che mi dà una sorta di risultato numerico, io posso continuamente, costantemente misurare e monitorare le tostature che faccio una dietro l'altra, non semplicemente guardando a vista il chico di caffè, ma guardandone anche l'interno. Sì, perché anche l'interno è altrettanto importante sapere com'è stato cotto.